I risultati più significativi sono che abbiamo accertato con rigore che esiste un comparto di impresa nel nostro paese che sono circa 172 mila per oltre 620 mila addetti ufficiali, ma stimiamo che ce ne siano oltre un terzo in aggiunta di lavoratori a partita IVA, Coco Pro eccetera che sono strutturali a questo settore, che ha una forte capacità di fare innovazione usando culture e strumenti digitali. Abbiamo anche accertato che questo mondo pesa sul valore aggiunto nazionale per circa il 3,9% pari a circa 50 miliardi all'anno di valore aggiunto prodotto. Se le interessa un dato veramente spettacolare, le posso anche dire che questo valore aggiunto è circa lo 0,7% dell'intero settore ICT, dell'Information Commission Technology ed è circa due volte e mezzo la somma del valore aggiunto prodotto dalle famose 4A del manifatturiero italiano automotive, arredamento, abbigliamento e agroalimentare. Quindi questo dà l'importanza di quel settore. Inoltre dentro le imprese troviamo persone, tra i titolari e tra i loro collaboratori che sono molto preparati. Abbiamo circa tre volte il numero di laureati, superano il 50% che di media trova nelle imprese italiane e abbiamo una grossa presenza anche di dottorati o di persone in possesso di PICD internazionali che arrivano circa al 20% della forza lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.